e salve a tutti ragazzi in questo nuovo video scusatemi se questo video uscirà sicuramente in ritardo ma purtroppo sono andate delle novità nel mentre quindi l'ho dovuto riregistrare fatto sta che oggi andremo a parlare nel classico video news della domenica proprio come sbloccherete a brevissimo il vostro iphone con face id senza utilizzare né apple watch né togliere la mascherina capiremo tutto ma prima sigla beh ragazzi perché vi ho detto questo perché a brevissimo verso febbraio barra marzo uscirà ios 15.4 all'interno delle prime beta anche disponibili per il pubblico hanno questa nuova funzionalità di sbloccare l'iphone con face id senza togliere la mascherina purtroppo però è disponibile solo dall'iphone 12 in poi quindi xxs xs mas 11 11 pro 11 pro max e anche l'xr non si potranno sbloccare ma servirà ancora l'utilizzo dell'apple watch fatto sta che però comunque per tutti i processori di iphone 12 in poi è una grande novità allora molti pensano che è perché non ha il sensore fisicamente gli altri non hanno dei sensori fatti apposta altri pensano perché è un'azione di marketing taglio via i vecchi iphone e ho dovuto utilizzare forza quelli nuovi vabbè fatto sta che ci sono altre novità ad esempio hanno migliorato comunque la funzione di sblocco con face id con apple watch che vi dico funzionava già benissimo se vi allontanavate già un metro non sbloccava più se stavate circa 10 20 cm massimo 30 lo sbloccava alcuni dicono che non dovrebbe avere problemi in questo nuovo sblocco pure con gli occhiali altri dicono che avrà dei problemi altri addirittura pensano che non ha problemi con gli occhiali perché arriveranno gli apple glasses ma questa è una visione fin troppo futuristica andando avanti però hanno parte altre novità in iCloud su iOS 15.4 ad esempio quando voi registrate una password su iCloud nel portachiavi iCloud potete metterci una nota ad esempio a voi saliva la password con la lettera maiuscola e carattere speciale almeno 8 caratteri allora tu scrivi salvi la password e sottoscrivi questa è la password di gmail che 8 caratteri con la lettera maiuscola e carattere speciale 4 numeri ad esempio scrivete non lo so e questo è un esempio per ora le funzioni sono solo queste ma siamo ancora alla beta 1 quindi magari da qui a un mese, un mese, mezzo mese potrebbero arrivare altre novità iPadOS ha una cosa fighissima cioè potete regolare la retroilluminazione della Magic Keyboard quella retroilluminata attraverso il pannello quindi mentre prima c'erano solo due tasta adesso potete regolare attraverso il pannello di controllo stessa cosa aggiunta per il Face ID lo sblocco con la mascherina senza l'Apple Watch ma dall'iPad Pro 2020 in poi e qui è chiaramente una mossa di marketing perché il 2018 era uguale identico a questo quindi sull'iPad è sicuramente una mossa di marketing andando avanti allora hanno portato l'Universal Control in un ritardo imperdonabile ma è arrivato ed è perfettissimo anche se nella beta è stato provato si può fare drag and drop cioè passare un file dal Mac all'iPad in modo perfetto hanno migliorato pure Sidecar anche se lag non c'era ad esempio hanno migliorato pure il mouse che spesso quando c'erano iPad grandi e Mac leggermente anzianotti la ghiacchiava ma no non aveva nessun problema quindi ottimo ottimo lavoro Apple ma vi racconterò la mia sfiga con Mac OS 12 perché come vedete sono tornato a Moavi ma ve lo racconterò in un video perché magari se voglio aspettare aggiornare magari a 12.3 a vedere se cambierà qualcosa mentre passi in avanti sono stati fatti comunque anche su iOS e iPadOS pure se oramai la versione 15 è finita perché Apple sta già pensando alla 16 perché calcolate che siamo ora al 30 gennaio e praticamente per Apple l'anno e se è praticamente veramente oramai è veramente in ex qualche forza arriveremo alla 15.4.1 prima di aggiornare la 16 poi magari con ci saranno ad aggiornarlo fatto sta che a quanto pare su iOS 16 sarà pieno zeppo di tagli un sacco di iPhone in meno e a quanto pare si partirà dall'iPhone 8 in poi se partiranno dall'iPhone XS in poi ragazzi va bene tutto ma mi avete stupato l'iPhone 6s per 7 anni adesso mi aspetto anche magari avevi 7-6 anni ci sta ma l'8 altri 6-7 anni e sarebbe veramente ciò che fa dire vabbè Apple perché tutte quelle multe che hanno pagato per l'obsolescenza programmata potrebbero anche togliere perché tanto considerando quanto Apple aggiorna i suoi device diciamo che non ha problemi quanto sai a quanto pare questo iOS 16 purtroppo avrà un sacco di tagli vabbè chiaramente l'iPhone 6s è finito qui e quindi non preoccupatevi chi ha l'iPhone 6s arriveranno magari alla 15.5 15.6 ma ovviamente dopo che sarà uscito iOS 16 quindi iOS 16 non lo vedete mai sul vostro iPhone 6s e 6 e nemmeno 6 chiaramente anche se ora vai ragazzi hanno la loro età e niente ragazzi per questa settimana le notizie sono state interessantissime non sono state moltissime sono queste io levo solo semplicemente parlare di queste notizie riguardanti Apple questo video non sarà lunghissimo ma in questa beta sono uscite poche novità ma veramente interessanti quindi è stato rilasciato anche la beta di WatchOS ma non si è capito perché WatchOS è 8.5 non 8.4 la 8.4 non è uscita fatto sta che hanno rilasciato è veramente particolare perché iOS iPadOS 15.4 WatchOS 8.5 e MacOS 12.3 hanno fatto anche un mix con i numeri strano da Apple vabbè ragazzi anche se vabbè è chiaro sono tre sistemi operativi separati quindi ci sta anche e quindi ragazzi ci vediamo domani con la recensione di iPad 9 ciao e alla prossima